Per riuscire a orientarsi nel mondo è opportuno farsi una grande provvista di prudenza e di tolleranza. Con la prima ci si protegge da danni e perdite, con la seconda da liti e imbrogli. Chi deve vivere tra gli uomini non può assolutamente respingere nessun tipo di individualità, in quanto essa è fuggiata e accordata dalla natura, neppure quando si tratta della più malvagia, della più miserevole o della più ridicola. Egli deve piuttosto accettarla come qualcosa di immutabile, che per un principio eterno e metafisico deve essere così com'è. Se invece la pensa diversamente, fa un torto all'altro e lo sfida ad una lotta di vita o di morte. Nessuno infatti può cambiare la propria individualità, cioè il proprio carattere morale, le proprie capacità conoscitive, il proprio temperamento, la propria fisonomia e così via. Se condanniamo quindi in blocco un altro essere, a quest'ultimo non resta altro da fare se non di combattere in noi un nemico mortale. Perché noi vorremmo concedergli il diritto di esistere soltanto a condizione che gli divenga un altro rispetto a quello che è già in modo immutabile. Per poter vivere tra gli uomini dobbiamo quindi accettare e accogliere ciascuno con la propria individualità innata, non importa come sia, e dobbiamo semplicemente badare ad utilizzarla nella misura concessa dal suo contegno e dalla sua indole. Ma non possiamo sperare nel suo cambiamento, né semplicemente condannarlo così com'è. Comunque il compito non è tanto facile quanto è giusto, e colui che riesce ad evitare regolarmente il contatto con certe individualità può considerarsi fortunato. Per imparare a sopportare gli uomini, si deve esercitare anzitutto la propria pazienza con oggetti inanimati, che si oppongono in modo ostinato alle nostre azioni per necessità meccanica oppure anche fisica, un'occasione che si offre quotidianamente. Si impari poi a trasferire sugli uomini la pazienza così acquisita, abituandoci a pensare che anche essi, ogni volta che ci sono d'ostacolo, non possono che essere così, in virtù di una necessità rigida che sorge dalla loro natura, simile a quella delle cose inanimate. Quindi è parimente insensato indignarsi per le loro azioni quanto per un sasso che ci capita tra i piedi. In molti casi è più saggio pensare, siccome non lo cambierò, almeno cercherò di utilizzarlo. È sorprendente vedere con quanta facilità e rapidità nella conversazione tra gli uomini si manifesti l'omogeneità oppure l'eterogeneità dell'intelletto e dell'animo, cosa che si avverte in ogni dettaglio. Anche se la conversazione riguarda le cose più strane ed insignificanti, tra individui sostanzialmente eterogenei, quasi ogni frase dell'uno dispiacerà più o meno all'altro. Alcune frasi lo manderanno addirittura in collera. Persone affini, invece, sentono subito in tutto una certa corrispondenza che si trasforma ben presto, nel caso di una grande omogeneità, in una perfetta armonia o addirittura in un accordo all'unisono. Questo spiega anzitutto perché gli uomini comuni sono tanto socievoli e trovano ovunque così facilmente buona compagnia, tanta brava gente, cara e onesta. Alle persone fuori del comune avviene il contrario e succede tanto più quanto più sono eccezionali, al punto che, nel loro isolamento, possono talora davvero rallegrarsi di aver individuato in un altro qualche fibra omogenea alla loro, per quanto piccola possa essere. Ognuno, infatti, può significare per l'altro ciò che quest'ultimo significa per lui. I veri grandi spiriti ne edificano da soli come le aquile sulla vetta. Da questo, d'altronde, ben si comprende che le persone concordi tra di loro si ritrovino tanto facilmente, quasi fossero attratte magneticamente l'una verso l'altro. Gli animi affini si salutano da lontano. Certamente si avrà occasione di osservare questa cosa per lo più tra persone di bassi principi o condotti limitate, ma soltanto perché dalla loro specie esistono legioni, mentre le nature migliori ed eccellenti sono e vengono definite rare. Di fatti, in una grande comunità orientata a scopi pratici, due veri forfanti si riconosceranno per esempio facilmente, come se portassero un distintivo, e si ritroveranno ben presto insieme per compiere abusi e ordire tradimenti. La stessa cosa succede se si pensa, per impossibile, ad una grande compagnia di individui, molto intelligenti e spiritualmente ricchi, in cui siano presenti anche due imbecilli. Essi si sentiranno tratti l'uno verso l'altro per simpatia, e ben presto ciascuno dei due si rallegrerà nell'animo di aver incontrato quantomeno un uomo ragionevole. È davvero memorabile assistere alla scena di due persone che si riconoscono l'un l'altro al primo sguardo, specialmente se sono meno dotate dal punto di vista morale e intellettuale, e fanno ogni sforzo per avvicinarsi presto l'uno all'altro. Si salutano con cortesia e gioia, si corrono incontro come se fossero vecchie conoscenze. Tutto è così sorprendente che viene la tentazione di credere, secondo la dottrina buddista della metempsicosi, ad una loro amicizia in una vita precedente. Ciò che tuttavia divide gli uomini, anche quando vanno assai d'accordo ed è fonte di una passeggera disarmonia tra loro, è la diversità dello stato d'animo momentaneo, che per ognuno è quasi sempre differente a seconda della situazione attuale in cui il singolo si trova, dell'occupazione, dell'ambiente, dello stato fisico, dei pensieri di quel momento e così via. Da qui nascono le dissonanze tra le personalità più concordi. Correggere continuamente questo inconveniente e introdurre un clima d'equilibrio potrebbe costituire prova della più alta educazione. Quanto significa uno stato d'animo comune per la vita di società si può misurare dal fatto che persino una compagnia numerosa viene spronata ad una vivace comunicazione reciproca e a una partecipazione sincera con una generale soddisfazione, non appena un qualcosa di oggettivo agisce su tutti quanti e in modo identico che si tratti di un pericolo, di una speranza, di una notizia, di una visione straordinaria, di uno spettacolo, di un brano musicale o di qualunque altra cosa. Fatti come questi determinano appunto un'unità assoluta dello stato d'animo superando tutti gli interessi privati. In mancanza di una tale sollecitazione oggettiva si ricorre di regola a quella soggettiva e il mezzo più comune è ricorrere alla bottiglia per offrire alla compagnia uno stato d'animo uguale per tutti. Anche il tè e il caffè servono a questo. Infatti quella disarmonia che la diversità degli stati d'animo momentane diffonde tanto facilmente in ogni compagnia spiega in parte perché nel ricordo, invece, ormai liberato da influssi perturbatori di questo o d'altro genere, sia pur soltanto transitori, ciascuno si presenti come idealizzato, anzi, quasi trasfigurato. Il ricordo agisce come la lente convergente in una camera oscura, restringe l'immagine producendone così una assai più bella di quella originale. Noi otteniamo già in parte il vantaggio d'essere visti così già quando ci assentiamo anche per una sola volta. Anche se ci vuole tempo perché il ricordo completi la sua opera di idealizzazione, il processo è stato avviato. Si è quindi assai accorti se ci si mostra ai propri conoscenti e buoni amici dopo un lungo intervallo. Al momento di rivederli notiamo che il ricordo già si è messo all'opera.